Partita difficile come dal resto tutte e tutte quante, incontriamo una squadra che dopo il Carpi è quella che ha perso meno perché ha perso quattro partite e ne ha perso una sola e penso fuori casa con in Latina. Una squadra quadrata che ha un punto sotto di noi, che ultimamente anche loro stanno, a parte la vittoria di due domeniche fa, netta sul Catania, sta raccogliendo un po' meno, però è una squadra che ha dei valori perché perde poco e pareggia molto, ha ottenuto vittorie importanti contro squadre importanti. Sono una squadra quadrata che gioca bene, che fa delle palle inattive, insomma la loro arma migliore e sarà una partita logicamente difficile dove dovremo affrontarla come sempre, con lo stesso spirito perché tutto si può dire a questa squadra, tranne che non scende in campo sudando la maglia, onorando la maglia, che non scende in campo con la voglia, quindi è normale che non veniamo da un periodo felice per quanto riguarda i risultati, ma comunque le nostre partite le abbiamo sempre fatte. Manca una vittoria per riprendere entusiasmo, manca una vittoria per il morale, manca una vittoria per la classifica e scenderemo in campo per ottenerla. Faccio un appello anche ai tifosi, a quella gente che domani verrà allo stadio, di aiutare e sostenere la squadra perché il momento lo richiede, non è momento di fare contestazioni, non è momento di fare polemica, c'è solo da aiutare la squadra per 95 minuti, in curva, nei distinti, in tribuna e se poi alla fine della partita non saranno soddisfatti del risultato, della prestazione, sono liberissimi di prendere la decisione, di contestare, di fare quello che vogliono logicamente perché pagano il biglietto e quindi sono liberi di farlo. Durante la partita no, durante la partita serve la mano dei nostri tifosi.